A proposito, e le lettere ai miei? Quali lettere? Quando si è in viaggio si scrive alla famiglia, tutto a posto. Gli scrivi così il primo giorno? Però io disapprovo che si mentisca al proprio padre. Dico sul serio. Ehi, hai sentito? Ah, lasciami in pace. Beh, sei d'accordo. E allora sai qual è l'unico modo per evitarlo? E che tu te ne vada sul serio in campagna. Con me, naturalmente, ci farebbe un sacco di bene. Sei diventato matto? Sistemiamo l'affare dello champagne, ci becchiamo i soldi, e domani o dopodomani, se preferisci... Ma lo sai benissimo che io Ivette... Ma Ivette è d'accordo. Non è vero. Ivette. Antuani è liberissimo. Ecco, che ti dici? Solo c'è un fatto che tu non sai, mio caro Poli. Ed è che io e Antoine abbiamo deciso di vivere insieme, per sempre. Ah, e si può sapere se non sono troppo indiscreto di cosa vivrete? Beh, Antoine continuerà a fare degli affari. Antoine non ha un giro di clienti. E va bene, se lo farà. Facile. Alla peggio lavorerò io. Non cominciamo a sparare le grosse adesso? Dì un po', ma lo senti? E tu te ne stai lì come una mummia. Se non avremo soldi, ci arrangeremo. Già. E tu magari sacrificerai la pelliccia, vero? Certo che non mi comporterò come ti sei comportato tu con Flora.